musicisti milanesi e non solo in un progetto itinerante contro la droga e il fumo si chiama best train prepararsi di studiare di essere molto autocritici che è una cosa difficile in quanto in italia un po tutti pensano di essere dei bravi cantanti tutti dei bravi allenatori di calcio consiglio spassionato per partire col piede giusto nel mondo della canzone da parte di uno che ce l'ha fatta dopo anni di gavetta gatto panceri con max de angelis qui in studio con lui e altri artisti della musica dello spettacolo tra i protagonisti di best train manifestazione itinerante che mira a sensibilizzare i giovani contro i pericoli di droga e fumo prima tappa venerdì a livorno con ricadute benefiche per l'associazione italiana sclerosi multipla e l'assegnazione del premio I can fly a john luca grignani lo vuoi io sì e insieme andiamo a livorno perché no ciao gatto ci vediamo a venerdì calcio i playoff per la promozione in serie al albino leff ha perso in casa l'andata della finale con il lecce 0 a 1 il risultato grazie a tutti